Musica Benvenuti al Tg la Sud Flash, apriamo il nostro giornale con la cronaca, lo ricordiamo con i principali fatti dalla Campania. Un'indagine della Direzione Distrittuale Antimafia di Napoli ha portato ad identificazione dei killer di un omicidio avvenuto nel 1989 a San Cipriano d'Aversa. Un'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere al capo clan del clan dei Casalesi Francesco Sandocan Schiavone e sei killer. Il provvedimento è stato emesso al termine delle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Caserta coordinati dai pubblici ministeri Catello Maresca e Simona Rossi. L'accusa per il boss del clan casertano detenuto da 20 anni è di essere stato il mandante del delitto consumato nell'ambito della guerra che alla fine degli anni 80 contrapponeva il suo gruppo controllato insieme a Francesco Bidognetti e Vincenzo De Falco alla famiglia Bardellino. Insieme al 64enne Francesco Schiavone erano già detenuti altri destinatari del provvedimento quindi parliamo del presunto killer del vigile poi divenuti elementi di spicco del clan Raffaele Diana 63 anni di Giuseppe Caterino di 62. Quindi l'ordinanza ricordiamo i partecipanti all'omicidio del vigile urbano Antonio Diana ucciso nel 1989 a San Cipriano d'Aversa. La direzione investigativa antimafia di Salerno ha eseguito stamattina a Cava dei Terreni un provvedimento di confisca beni per 5 milioni di euro intestati a personaggi riconducibili a Domenico Lamberti 70 anni di Cava dei Terreni e ai suoi stretti congiunti. La confisca è stata disposta dalla Corte di Appello di Salerno su proposta della procura di Salerno nell'ambito del procedimento di prevenzione antimafia nei riguardi di Lamberti al quale è stato contestato l'illecito arricchimento avvenuto contestualmente al periodo di appartenenza all'associazione Nuova Famiglia. Quindi un'associazione camorristica. E adesso apriamo la nostra pagina della politica perché ieri a Napoli all'Istituto degli Studi Filosofici c'è stata una conferenza alla quale hanno partecipato come protagonisti Pierluigi Bersani e Ciriaco De Mita, entrambi sul fronte del no per quanto riguarda il referendum. E allora Bersani è arrivato a Napoli, c'è stato un saluto con De Mita, lo vediamo dalle immagini, si sono abbracciati e salutati affettosamente e poi Bersani ha dichiarato Io non ho mai cambiato idea e il riferimento è a Renzi che il giorno prima, poche ore prima, anzi aveva detto che Bersani cambia sempre idea sulla questione referendum. E allora Bersani ha detto io non ho mai cambiato idea, non so dove trovino questa novità. Ma dal primo giorno ho pensato che l'Italicum era un disastro che andava rottamato perché lo ricordiamo era questo il problema per Bersani e quindi che adesso è sul fronte del no proprio perché sull'Italicum non è d'accordo. L'ho detto dal primo giorno, lo dico fino all'ultimo, c'era tutto il tempo per cambiarlo, appunto se fosse stato cambiato ha sottolineato Bersani anche ieri, sarebbe stato dalla parte del sì, ma non lo si è cambiato. Dice Bersani o si rottama l'Italicum o si ferma la riforma costituzionale, se non si cambia l'Italicum o bisogna fermare la riforma costituzionale, questo è un problema di democrazia e l'ho sempre pensata così. De Mita che era con lui poi ha sottolineato c'era la possibilità di non rompere, l'ho detto dall'inizio, mi ero luso che potesse essere un percorso da seguire, cancellare la legge elettorale perché è la legge elettorale che altera la Costituzione, perché è una Costituzione scritta male, si può cambiare la legge elettorale, no. Ho la sensazione, ha detto De Mita, che questo governo e chi lo guida concepiscano la politica più come un'occupazione di spazio che come risposta ad una difficoltà. E poco più avanti, non lontano dall'Istituto degli Studi Filosofici di Napoli, in piazza del Plebiscito, in un circolo culturale, era presente Orfini e Valeria Valente, entrambi sulla fronte della Sì, quindi hanno risposto quasi in contemporanea alle dichiarazioni di Bersani e di De Mita e hanno detto naturalmente la loro. E allora ha affermato Orfini, quantomeno mi aspetterei dai miei compagni di partito, il rispetto per le scelte che assumiamo insieme. Così il presidente del PD ha risposto a Bersani che aveva detto, come abbiamo sentito, si rottama l'Italicum o no a riforma. Abbiamo deciso tutti insieme, ha detto Orfini nella direzione del partito, di provare a lavorare per cambiare l'Italicum, istituendo un gruppo di lavoro. Il comitato inizia il lavoro in queste ore, credo che sia ragionevole fidarsi o almeno dare a questo comitato il tempo di lavorare serenamente, senza lanciare diktat o sfiduce preventive al lavoro di questo gruppo. Come dire, Orfini spera ancora che Bersani cambi idea. E veniamo alla cronaca, la cronaca bianca, o meglio la cronaca delle proteste. Anche stamattina a Napoli, la giornata è stata scandita da varie proteste. Iniziamo con una protesta che riguarda la sanità. L'ospedale San Gennaro si sono barricati all'interno dello storico nosocomio del rione sanità per evitare che la struttura venga sgomberata. La protesta portata avanti dal presidente della terza municipalità, Ivo Poggiani, va avanti da qualche giorno a questa notte. I residenti poi hanno deciso di occupare il nosocomio. Su questo fronte in mattinata è arrivata poi la reazione, il commento, la presa di posizione del presidente della regione Vincenzo De Luca che ha affermato, ha annunciato che incontrerà domani la direzione generale dell'Asla Napoli 1 proprio per affrontare le questioni relative al futuro dell'ospedale San Gennaro di Napoli. L'istruttura quest'ultima ha detto De Luca che, come più volte chiarito per tutti gli ospedali della città, non sarà chiusa. Passiamo ad un'altra protesta di tutt'altro genere. Un gruppo di disoccupati aderenti al Movimento 7 Novembre è salito su un'impalcatura al tunnel della Vittoria, lato via Acton a Napoli. I manifestanti hanno esposto sui scioni per il lavoro chiedendo al Comune di Napoli, Regione Campania, di attivarsi per sbloccare i progetti occupazionali che li coinvolgono, in particolare per iniziative di pubblica utilità nelle periferie. La manifestazione è stata organizzata anche in preparazione del prossimo sciopero della logistica e dei trasporti, previsto per il 21 ottobre. Sciopero indetto dopo la morte di Abda Asmen Eldanz, che è l'operario deciduto a Piacenza lo scorso 14 settembre. I manifestanti di tanto in tanto attraversano a passo di lumaca l'incrocio della strada con problemi di traffico. Questa era la cronaca di questa mattina di una collega che stava seguendo la manifestazione e perciò i manifestanti hanno protestato in strada, hanno manifestato in corteo. Poi la manifestazione in tarda mattinata si è conclusa. E andiamo avanti con il nostro giornale, con due notizie che riguardano un po' la sanità ma anche la cronaca. Partiamo con questa che riguarda i farmaci antitumorali perché riguarda anche la Campania, una maxi operazione condotta dai carabinieri di Bologna e riguarda i medicinali antitumorali rubati. I carabinieri di Ferrara hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare, 16 in carcere, una ai domiciliari nei confronti di componenti di una banda specializzata nel furto dei medicinali, in gran parte selezionati tra quelli a costo elevato e destinati al trattamento di patologie oncologiche o croniche di diverse farmacie di ospedali del centro nord. Quindi, dicevamo, riguarda anche la Campania perché l'operazione ha riguardato varie località, in Campania in particolare Napoli, Salerno e Caserta. In chiusura, vi avevo detto una notizia di buona sanità perché è stato inaugurato stamattina il nuovo ospedale di Pozzuoli. C'è sempre una dichiarazione del presidente della regione Campania De Luca che dice per seguire obiettivi realizzabili, abbiamo perso dipendenti, ora abbiamo un bilancio inattivo, ma stiamo indietro sui livelli di assistenza sanitaria, così De Luca, all'inaugurazione del nuovo posto di pronto soccorso all'ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, che sono presenti tra gli altri anche il sindaco di Pozzuoli e il direttore generale dell'Asla Napoli 2. Ed era questa l'ultima notizia, il Tg La Sud Flash termina qui, grazie per averci seguito, arrivederci.